Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo survival games notturno come sempre quest'oggi ancora una volta in compagnia di Bianca che quest'oggi è una fence VIVA LE FENCE! Non lo so Che portano le torce però Aspetta, stai un attimo, non ho shiftato, aspetta Ecco, così sembra che hai la torcia che ti spunte dalla testa, è una cosa abbastanza strana Ho una torcia conficcata nella testa Evviva E niente, siamo sempre Hashtag white fence Esatto, siamo sempre sponsorizzati da McDonald's, ricordatevi E quindi niente No, questa volta da Ikea Esatto, da Ikea, perfetto E quindi niente, l'ignoranza ogni volta nei survival games Andiamo subito in partita No, Aerobrine non mi piace Biosphere Biosphere Cioè, un po' l'inglese, insomma E oh mio dio, c'è Batman, c'è Iron Man E poi ci siamo noi E poi ci siamo le fence Esatto Esatto, e poi c'è tale Eviot Vediamo la skin di Eviot Eviot, ok Ah RPG Sotto nei commenti Yoshiku 151 E' cattivo No, non è vero mai Io poi non l'ho capito perché Vuolvi fare team Non lo so così a caso Perché praticamente Lei è venuta lì Non aveva niente nell'inventario Proprio zero Ho cominciato a prendermi i pugni E gli ho fatto no con la testa Dicendo no, fai la brava Tipo E lei si è calmata Poi ho passato delle armature E cose così a caso Doppie Una volta stavo anch'io in un SG Tipo Tu fu il demon Mi è venuto io Tipo con l'acciarino Che cercavo di farlo incendiare Ok Andiamo dalla parte Andiamo al centro E poi zona innevata Ok E mi ha tornato tutto Tutto Ok Sono bravo Esatto Dai 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 Vediamo Ma non c'è nulla Niente Non ho preso niente Grazie Due frecce ho preso Posso prenderti tipo a lanciate Io posso rodare Bene Ok Adesso ho un'ascia di pietra Quindi ci può stare Comunque sia Anche io posso rodare Evviva Verutilizzo la rod Ci ho preso tutto Non c'è nulla E Questa mappa è infame però Vieni qui Tieni Occhio che c'è un orso polare Qui dietro Quindi Ti passo C'è un tipo C'è un tipo Dove pensi di andare senza armi? Ma rod Puttalo a terra Vai vai Dov'è? Eccolo qui Rocca miseria Ti distruggo Non pestarmi però Ok Clean up cattivissimo Oh mio dio mi ammazza Oh mio dio mi ammazza No 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 Dov'è? E' qui dietro Aspetta Ok Clean up cattivissimo Vieni qui Io intanto mangio Aspetta di Mi ammazza Mi ammazza lui Mi ammazza di brutto Mi ammazzato Lol Ok ammazzato Ok adesso ti aspetto tantissimo E E' bello Tipo anche così Sbam Ma che cosa professionale Ma lo facciamo così Cioè tipo le riprese del drone dall'alto Molto figo Così Con la telecamera cinematica Così Ok Vorrei aver tutto sotto controllo Che vogliamo Molto bene Ah Oh Ah Ok Il problema è che sto laggando tantissimo Ok perfetto Ho notato Ho notato Ok Vediamo 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 C'è uno Steve E c'è tale Coso Che non so come si chiami Vediamo Ah Aviot Ancora tu Ok Occhio 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 C'ha l'arco Attenzione 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 No 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 Non mi può spawmare Mamma mia Attraverso la colonna Uh Grande No 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 Grande Incredibile GG Finalmente Finalmente Hertz Ah cuori Quanti cuori avevi? Ah Ehm Tre Mi pare O quattro O tre o quattro Però Devo togliere però la cinematica Se no non si può giocare Ehm Dove stai? Ho vinto Grande Ehm Rain for yent Coso della vita Ok sì 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 No di nuovo questo Dobbiamo imparare Che questa mappa Non dobbiamo cliccarci sopra Oh yes Mi piace Mi piace Con due persone su Mmm Va Allora Prendiamoci metà dalle ceste Sì sì Facciamo anche con calma Tanto C'è tutto il tempo Uh Così belle Così molto belle Ho trovato una cosa bellissima Eh diamanti a profusione Cosa posso fare Cosa posso fare Già Tutta la vita puoi fare Porca miseria Li posso lasciare Ok dove sta? Aspetta devo fare una cosa Perché ti devo fare un regalo Aspetta No io scappo Un regalo Un regalo serio? No mi regali la mia morte No 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 Non mi fido Mai farei Una cosa così brutta No non mi fido Me la fuggo Ma No Mi hai tradito Quando hai killato Com'è che si chiamava? Yoshi 51 Yoshi Q Sì Yoshi Q Sì Yoshi Q 151 Tesla Vieni a vedere cosa c'ho No c'ho paura Me la fuggo Oddio Yes Yes Dai Ho la spada di diamante Eh lo so Cioè se no non dicevi tipo Dei diamanti Uh fighissimo Cose della vita Io ne ho uno di diamante Quindi Rosico Tantissimo E C'ho paura Secondo me tu li trovate Diamanti Non ve lo vuoi dire Uno Qui Ce l'ho in mano Adesso Non so dove si però Eh lo so Ok Meglio così Adesso mi troverà tantissimo Tipo No anche perché non Non sto messo benissimo Di cose Istinto dell'indiano Del Dakota Mamma mia Quindi non l'ho mai capito Però adattagli E Vabbè È una cosa molto sottile Perché praticamente Gli indiani Poi vabbè È un modo di dire Gli indiani Delle Dakota In particolare Avevano questa Questa caratteristica Di strisciare Lentamente vicino Al nemico E poi attaccarlo Di sorpresa Infame praticamente Esatto Però funzionante Infame Ma funzionante Esattamente Però sei sempre infame E non ci puoi fare niente E la vescialla Vado tipo sopra questo albero Che ha delle Albicocche Delle pesche Che sono Però io non trovo chest Di proporzioni Gigantesche Però io non trovo chest Eh Fami trovare un'altra Fami trovare un'altra Eh Eh Ste chest qua fanno schifo Eh Eh No Lo sai che mi ammazzerei tantissimo Perché Perché Ho un'arma che vabbè Lasciamo perdere Cioè Con fronte di una spalla di diamante L'arco si Eh io non ho l'arco Cioè ho l'arco Però non ho le frecce Eh vabbè Mai ne ho così poche che Cosa voglio fare Con l'arco Beh Tu mi hai battuto una volta Quindi ricordatelo Vabbè Uh frecce Grande Adesso Se riesco a ritrovare Il tempio che Yes Il tempio che dico io Perfetto Qui dentro Ci sono cose Cose fichissime Yes Intanto altre frecce Quindi Già Già è una buona cosa Facciamo che al centro Ci incontriamo Sì A un certo punto E Facciamo Alle 11 dai Va bene Allora adesso Voi non lo potete sapere Ma sono le 10.56 di sera Quindi abbiamo 4 minuti adesso Uh il tempio Mi sa che siamo Dallo stesso identico punto No perché la bustola Mi indica un posto Completamente diverso Beh dai Diciamo che ho trovato Qualcosa di interessante Io ho una spada di diamante Però mi serve Qualcos'altro Per renderlo ancora Più interessante Perché se no Sei passato Sei passato di qui Sì 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 Eh lo so Intanto mi ammazzarei malissimo No dai abbiamo detto Quell'ora quindi Esatto Non mi tradire No 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 Non lo faccio questa volta Brava Ehm Lo faccio per Yoshi 150 Non 50 Niente comunque Non è questo qui Il tempio Ma sì che è questo Ma Devo riuscire Devo riuscire a trovare La cosa che sto Cioè Yes ho trovato Ho trovato il passaggio segreto Che intendevo Ma sono un genio del male Sapevo che c'era Ma non mi ricordavo dove Yes Guardate qua che passaggio segreto Incredibile Questa cosa non la trova nessuno Nella vita E Vabbè È inutile Però sta cest E tu Ti prego Non mi Eh anche tu sei inutile Ehm Ci ne verrà una qui sotto Se non mi sbaglio Ma A questo punto Mi sa che seppure te è inutile Mi serve Quel Una cesta Quello stick Beh dai Niente di interessante Ok io sono al centro Si dai ma Perché ci mettiamo tutti i piedistalli Ok noi ci attacchiamo Fino quando non arrivi Si Onesto 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 Ok C'è cibo no Perfetto Tu arriverai Da quella parte lì Perfetto Come fai a saperlo E c'è la boss Ho visto il tuo nick però Quindi Siamo near E Dai però Ma che sfiga Allucinante 30 milioni di ceste Non ce n'è una Quello che mi serve Ok di armatura Mi sa che non mi batti Ma come sotto le ceste No guarda ti do anche Ah i piedini ce li hai già però Vieni qua che ti do invece Questo No Ci dovevo mettere Da una parte opposta Sì no Prenditi questa Prendi questa Prendi questa Ti freccio No Anzi ti prendo a roddate Non provarci Devo cercare lo stick Vabbè scialla Sicura che non hai stick Si E vabbè Ho visto due volte Guarda ti farei uno screen Per fartelo vedere Cosa che non è possibile Quindi va bene Eh lo so Ok 3 Ok 2 No aspetta mi sono messa in una posizione sbagliata 1 Ok Vai Eh volevi Eh però così non serve a niente Perché Puoi continuare a rigenerare Presa Ups Scambio di colpi eh Beccata Buon spamming a manetta No Yes E si vince contro una spada in diamante Boom Però Io avevo Una cespetta in ora T'ho detto Prenditi quella in chain Era lì ad aspettarti Eh Andiamo dove Andiamo dove Che il video Dura tipo Già a 12 minuti e passa Uffa Time is up E dai Una è venuta brutta C'è una nuova mappa La varicia Vabbè dai Poi Facciamo tipo un video più lungo dal solito Così Extra Sono bravo Giusto Giusto perché Ah mi sa che voi Vi hai già visto il trailer Ah però Però tipo Bianca Nel passato in cui ci troviamo Non l'ha ancora visto Però Se io prendo Una macchina Vado nel futuro Trovo doc Che mi fa vedere Sì esatto Però Allora Ma vi spiego Io Sono nel passato Che però nel presente Per voi Cioè per me è presente Per voi il passato Però Cioè passato Non tanto passato Però è passato E quindi io non ho visto il trailer Però per voi è un passato Quindi Io non ho visto Invece l'avrete già visto Perché per voi è un passato Invece per me è un futuro E quindi per me Io non ho visto le cose Avete capito vero? Esattamente Cioè praticamente Per noi adesso è passato Quindi io ho già visto il trailer Lei non ha visto il trailer Perché soltanto nel futuro Che sarebbe il vostro presente Voi avete modo di vedere il trailer Così come lei avrà modo di vedere il trailer Nel presente in cui voi vi trovate Mentre nel passato in cui noi siamo Non è ancora successa questa cosa Dovrebbe essere Capito? Capito? Tutto chiaro? Io non ho capito Ok Aspetta Non ammazzare quella tipa lì Che ha un nome bruttissimo È tipo La giraffa greca La chiameremo È un altro tipo Adam Si chiama Adam Lui l'ammazziamo Che cosa ha sulla mano? Cosa ha sulla mano? Hai iniziata? Sì Non me ne sono accorta Yeah Le cose belle Ok lui lo ammazziamo subito Mentre la giraffa greca non l'ammazziamo Oh log Allontanati Follow me Follow me Tu vieni qui Uh bella Vieni qui Posso ammazzare male quello? Sì 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 Tanto non ho niente Tu vieni qui No Ah però c'è una spada di ferro Stiamo scherzando No 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 Quella no Però quello là sì Eh L'ammazzo io dai Tu vieni avanti Va bene Perché si sta piando la musica di Minecraft? Ah Che cosa diosa? Aspetta Togli la musica immediatamente E andiamo appresso questo qua Che ci sta rubando tantissime cose Aspetta che lo vado ad ammazzare malissimo Poi tu però non c'è Non c'è la spada di ferro maledetto Eh No 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 Morta Non aveva la spada di ferro Aveva la spada di legno Poi se ne è uscito Aveva la spada di legno Cioè Eh vedi Per questo Io tengo sempre in mano Un oggetto a caso No? Perché così loro pensano Che non ho armi Ha senso sta cosa Ha senso? No Però va bene Perché c'è una H di Erobra? No 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 Se 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 Non c'è una voglia Di Fonsis Che dici Eh beh Ti pareva Ma ammazza Ma ammazza Mi porti da Milano Vero Non ho sicuro Vengo giusto Lì è per portarti Fonsis Sì Guarda guarda C'è il tipo che t'ha ammazzato Eh? C'è il tipo che t'ha ammazzato Sta arrivando Ammazza 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 malissimo È maledetto Sta salendo le scale C'ho paura C'ho paura Non ti preoccupare Ci sono io qui con te Ah è Molto utile Da fantasma Sono Casper Vai vai Ammazza Ammazza Mamma mia che lag Dov'è? Dov'è? Non look Porca miseria L'ho ucciso Come? Sì L'ho ucciso Come? Com'è che l'ho ucciso? Basta Ah Per chi Hai amante del sushi Non l'ho mai mangiato Ok basta Non faremo mai più video assieme Come faccio a passare da qui? Madonna e santa Guarda Se fossimo stati in 1.6 C'era un bug Adesso non si può più fare Perché vedete Hanno tolto la possibilità Di rompere i blocchi In maniera sensata No? Perché prima in 1.6 C'era sto bug Che tu Tipo Rompevi il blocco E c'era Tipo Due decimi di secondo Di tempo Prima che il blocco Si riforma Si riformasse No? E quindi tipo Tu avevi la possibilità Di saltare sopra Al Al blocco No? E Cioè No è dall'altra parte No aspetta È camperata Aspetta Aspetta Ho capito dov'è Mi sa che più di così Non può andare lontano Quindi E Stai a vedere che è oltre questo È vicino a un ponte Mamma mia Di legno Sì ho capito dov'è Ma Io sono appena caduto Ha scritto Muoviti che sono annoiata La capisco E poi Tenza Sei su un albero Cadde Zitta adesso Mi devo concentrare Per non cadere di sotto Come un babbeo Quindi E morì Se no mi ammazzo Se adesso sbaglio Mi ammazzo Allora Non 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 devo cadere Non devo cadere No no Mocata Zitta Non gufarmela Dov'è? Eccola Ma salve Splendore Dov'è? Splendore Povera la tua fidanzata Lol Povera mi dispiace Salve T'ammazzo di brutto T'ammazzo di brutto T'ammazzo di brutto Cosa ho scritto? Aspetta Ho scritto Bu 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 Su La c'è La per sempre Adesso E' un idiota Andiamo a fare l'auto Lel Non so più scrivere niente Basta Sono troppo stanco Basta Basta Sono morto Bene Allora Ragazzi Io sono stanco morto Il video lo concludiamo qui Non ce la faccio più E sto scrivendo Ok Va bene Allora Ho letto in chat Sì sì Mi è partita la cuffia Mi letto in chat Perfetto Sì ho letto Ragazzi oggi sono un pezzo di grano Va bene Lei è un pezzo di grano Un pezzo di fence Un pezzo di altro Però va bene Lo stesso Noi concludiamo Patata Esatto Concludiamo questo video Grazie a McDonald Ikea Apple Ikea Patatini San Carlo Mulino bianco Basta Basta Che poi mi straicano il canale Soltanto per questo Che ignoranza Niente dai L'auto più lunga della storia Lasciate un like Qualora questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Vi sia piaciuto Aspetta Tu Sei iscritto No Allora iscriviti Esatto E basta Niente Addio Che basta Troppo ignoranza